Il telescopio giapponese Subaru, collocato alle Hawaii in vetta al Mauna Kea, sta fotografando da quattro anni una zona di cielo in grandissimo dettaglio, per rilevare anche i più flebili effetti di distorsione nelle immagini di galassie distanti provocati dalla presenza di materia oscura, altrimenti invisibile. Grazie al cosiddetto effetto lente gravitazionale e a un paziente lavoro di analisi delle osservazioni, i ricercatori nipponici sono riusciti ora a produrre la più estesa e più minuziosa mappa della distribuzione di materia oscura mai ottenuta finora. Di particolare interessa il fatto che gli aloni, cioè gli addensamenti di materia oscura, sembrano essere in numero minore rispetto a quanto predetto dai modelli teorici. Secondo gli scienziati, questo potrebbe indicare che l'espansione dell'universo sia stata in passato più veloce di quanto calcolato con le stime teoriche. Per una conferma bisogna però attendere la pubblicazione della mappa completa, visto che l'attuale si basa sull'analisi solamente del 10% delle osservazioni complessive. Grazie a tutti.